Buon pomeriggio, finalmente siamo giunti a Sapri, l'ultimo paese della provincia di Salerno. Dopo tante peripezie, dopo aver bucato anche una gomma, è gentilmente più pieno di anche meccanico, di fuori di Contadino, di Astrellaio, di Muratore, fa anche il meccanico, quindi anche la piattaforma. Si chiama Sapri, o la S, e anche il giornalino vettica di Amalfi Online.